Sì, sono a sentenza, mi darò il mio figlio, però va bene la decisione che ha preso, diceva bene, ma no, niente. Si sente di aver avuto giustizia? Sì, sì. Sì, sì. Io accetto la giustizia che sta a fare. Grazie. Grazie. Il perdono è un'altra cosa, per perdonare bisogna avere il pentimento che io ancora non ho visto. Il perdono che è stato chiesto per me non è chiedere perdono. Prima bisogna dire ho sbagliato, sono pentita di quello che ho fatto, poi si chiede perdono. Il perdono è un'altra cosa. Giustizia l'avete ottenuta? Armazzo.